Continua l'impegno della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco per diffondere una maggiore cultura finanziaria ed economica. È il senso dell'iniziativa di questa mattina Palazzo Vallelonga, non giocarti il futuro, uso responsabile del denaro e prevenzione del gioco d'azzardo. Coinvolti oltre 150 studenti delle ultime classi dell'Istituto Superiore Nitti di Portici, Istituto Tigga di Ercolano e Istituto Pantaleo di Torre del Greco. È una giornata che la Banca di Credito Popolare ha voluto anche oggi coinvolgendo i giovani studenti degli istituti torresi in collaborazione anche col Fondo Antiusura Moscati. La banca dal 2018 è impegnata in questa attività di dare cultura finanziaria ai giovani affinché domani possano gestire al meglio il proprio risparmio e le proprie finanze. Io credo che anche questo significa impegno per il territorio, significa crescere insieme e cercare di dare un sopporto ai giovani per dare loro un futuro migliore, lontano anche da possibili truffe a cui sono sempre molto soggetti. Noi abbiamo ritenuto di partecipare anche in relazione ad una intesa che abbiamo raggiunto il 25 luglio con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. Ovviamente l'intesa è di carattere finanziario. Nell'occasione abbiamo constatato che le finalità dell'educazione sul territorio in particolare nei confronti dei giovani è una prerogativa di questo istituto, motivo per il quale abbiamo mostrato grande interesse a dare il nostro contributo. Questa iniziativa si inserisce in due importanti manifestazioni di carattere nazionale. Il primo è il educazione finanziaria perché ottobre è un mese dedicato a questi temi, ci sono appuntamenti in tutta Italia. La seconda è il Festival Cultura. La Banca di Credito Popolare sul territorio offre tantissimi appuntamenti e noi come fondazione siamo lieti di essere a fianco a loro per portare ai ragazzi dei messaggi di uso responsabile del denaro e prevenzione del gioco d'azzardo, perché sono due facce della stessa medaglia. Grazie a tutti.